Angelo sbrocca il nuovo sindaco di Termoli con il 52% dei consensi, scippa la fascia tricolore a Michele Marone, a Campobasso Battista prepara la squadra con 5 assessori. A Campobasso e Esernia ha celebrato il bicentenario dell'arma dei carabinieri, incrollabile baluardo della sicurezza per il presidente napolitano, in aumento i servizi sul territorio accanto ai cittadini. Privatizzare la sanità significa rendere precaria una società a duro monito del presidente del comitato bene comune veneziale di Esernia, malumori e proteste in tutto il Molise. Entro pochi giorni l'assemblea dei soci dell'Olimpia agnonese approverà la nomina di Antonio Melloni alla presidenza, intanto sul fronte mercato si fanno sempre più insistenti le voci sull'attaccante Roberto Aquaro che tornerebbe a vestire la maglia granata. Ben trovati con l'informazione di Molise TV, lo avete sentito dai titoli, Angelo Sbrocca è il nuovo sindaco di Termoli con 441 voti di differenza sul rivale del centro-destra Marone. Il candidato di centro-sinistra fa sua la poltrona di sindaco della cittadina basso molisana. Sentiamo. A Termoli con un'affluenza ai minimi storici per l'elezione del sindaco in netto calo rispetto al precedente turno e soprattutto rispetto allo scorso ballottaggio, Angelo Sbrocca è riuscito a superare il proprio avversario con circa 400 voti di scarto. I due candidati a dire di tutti partivano alla pari, ma già dopo un'ora dallo spoglio il 49enne avvocato termolese era nettamente in vantaggio sul collega del centro-destra. Grande la soddisfazione del nuovo sindaco di Termoli subito dopo la certezza matematica della vittoria. È stata una campagna elettorale che è iniziata con le primarie, poi con il voto, il primo turno del 25 maggio e adesso con il ballottaggio che abbiamo vinto. Abbiamo vinto veramente tutte e tre, quindi siamo per tre volte felici. Le sensazioni sono positivissime e ottime. Adesso c'è da lavorare da subito, quindi inizieremo a organizzare le idee e poi vedremo cosa fare. Termoli torna a sinistra dopo l'amministrazione di Brino. Termoli torna al centro-sinistra dopo l'amministrazione di Brino e siamo una coalizione forte perché è formata da partiti molto forti, come il Partito Democratico, l'Italia dei Valori, i popolari e le liste civiche dove ci sono stati dei candidati veramente di prima qualità. Sicuramente ha vinto la coalizione che portava forse un po' più di novità. Certo, portava non solo la novità nel governo delle città e nel Consiglio, ma portava un elemento di discontinuità rispetto alla vecchia amministrazione. Noi eravamo in discontinuità, gli altri erano in continuità. Termoli ha scelto per la discontinuità. È stata una campagna elettorale un po' particolare, non ci sono state polemiche tranne nel finale. Cosa da dire al suo avversario? Nulla, soltanto che nel finale ci sono state dette delle bugie. Siccome le bugie hanno le gambe corte abbiamo visto che le bugie hanno avuto le gambe corte. Da dove deve ripartire adesso Termoli? Dall'amministrazione. Bisogna amministrarla questa città, amministrarla bene e nella migliore maniera possibile. Intorno a luna di notte è partita la grande festa della squadra che ha vinto le elezioni, con la marcia trionfale dalla propria sede all'ingresso principale del comune. Tutti in corteo con le bandiere, con Frattura, la Venitelli e Facciola in prima linea per prendere possesso simbolicamente del comune. Con la vittoria di Sbrocca a Termoli continua dunque la svolta verso il centro-sinistra della regione Molise, che ha già fatto suo in precedenza sia Isernia che Campobasso. E con l'aiuto delle schermate guardiamo insieme come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale di Termoli. Ecco innanzitutto vediamo i risultati del turno di ballottaggio. Angelo Sbrocca 6.461 voti con il 51,77%, Michele Marone 6.020 voti con il 48,23%. Vediamo ora la composizione del Consiglio. In maggioranza di Angelo Sbrocca sindaco, il Partito Democratico ha cinque seggi. Emanuela Vigilante, Antonio Sciandra, Oscar Scurti, Sebastiano Di Campli, Salvatore Di Francia. Tre seggi popolari per Termoli, Vincenzo Ferrazzano, Francesco Di Giovine e Maria Grazia Cocomazzi. Tre seggi a Vota per te, Filomena Florio, Mario Potena e Andrea Casolino. Tre seggi Unione per Termoli, Timoteo Fabrizio, Maria Chimisso e Silvio Orlando. Un seggio all'Italia dei Valori con Antonio Giuditta. E poi nella minoranza Michele Marone un seggio, un seggio al nuovo centro-destra Udc con Antonio Di Brino. Un seggio Forza Italia con Francesco Roberti. Un seggio alleanza per Termoli con Francesco Rinaldi. Remo Di Giandomenico avrà un seggio. Un seggio popolari per Termoli Annibale Cerniello. Paolo Marinucci avrà un seggio. Un seggio a Libera Termoli con Daniele Paradisi. E un seggio al Movimento 5 Stelle con Nicola Di Michele. Il senatore del PD Roberto Ruta ha augurato buon lavoro al neosindaco di Termoli Angelo Sbrocca. Dopo questa vittoria ha detto il centro-sinistra la piena responsabilità dei maggiori centri del Molisi all'opportunità di far cambiare passo all'intera regione. Gli auguri al neoprimo cittadino sono arrivati anche dagli assessori regionali Massimiliano Scarabeo e Vittorino Facciolla del PD. Ha le giuste credenziali per contribuire alla rinascita di Termoli e saprà interpretare al meglio il ruolo che gli è stato affidato dalla gente che lo ha scelto. Hanno affermato i due esponenti democratici. 5 più 1 i numeri della giunta comunale di Campobasso dell'era Battista. Due caselle per il PD, due all'EDV e una ai comunisti italiani. Vediamo. Sarà una giunta a quella targata Battista a 5 più 1 con il primo cittadino. Un esempio di buone pratiche che evidenzia quanto importante sia la riduzione dei costi a cominciare proprio dalle stanze dei bottoni. Sulla falsariga di Palazzo Vitale, il cui governatore ha lasciato la giunta a 4, escluso il presidente, Palazzo San Giorgio si adegua. Nessuna giunta a 8 come qualcuno tenta di spingere per conquistarsi un posto al sole. Solo 5 sono i premiati. Ma questo non significa che il ruolo di consigliere o quello delle commissioni sia da meno. Ognuno deve fare la propria parte anche perché la rivoluzione che Battista ha annunciato avrà un seguito e su questo ci giura l'intera squadra. Il dialogo con i partiti intanto continua. Terminato il giro con quelli più piccoli, ora tocca ai grandi, a quelle forze che avendo i numeri, hanno la possibilità di far sentire la propria voce e aiutare nelle scelte. Per il PD saranno i nuovi assessori Bibiana Chierchi e Pietro Maio. Per l'Italia dei Valori, Cola Giovanni potrebbe ricoprire la carica di vice sindaco, mentre De Bernardo, assessore o addirittura presidente del Consiglio Comunale. Maurizio D'Anchise riempirà invece l'ultima casella e così i comunisti italiani metteranno piede nel governo cittadino. Intanto però Battista continua con le consultazioni, la strategia è quella di tenere gli animi pacati e rassenerare tutti, per poter lavorare senza intoppi e senza indugi. Parliamo ora di trasporti. Pierpaolo Nanni, assessore regionale dei trasporti, è intervenuto sui disagi vissuti dai passeggeri sulla tratta ferroviaria Campobasso-Roma. Dal prossimo 15 giugno, annunciato, saranno attivati in via sperimentale due treni aggiuntivi. Il primo con partenza da Campobasso alle 12.34 e l'altro con partenza da Roma Termini alle 13.07. A queste corse aggiuntive, ha proseguito Nanni, affiancheremo per il treno di rientro da Roma alle 17.35 la partenza dalla stazione Tiburtina invece che da Termini, per la quale è stato proposto un treno alternativo con partenza sempre da Termini alle 16.30. Una soluzione, ha concluso l'assessore, che speriamo possa venire fuori dal confronto con la regione Lazio. E cambiamo argomento, sembra non trovare pace la politica il consigliere della provincia di Campobasso, Carlo Perrella. Una nuova parentesi, questa volta sembra prodare in Fratelli d'Italia. Sentiamo. Sembra non trovare pace il consigliere provinciale Carlo Perrella, figlio d'arte la madre, la consigliera regionale Angela Fusco Perrella, che nel corso della sua carriera ha incassato vittorie una dietro l'altra, accumulando nel lungo escursus politico cariche prestigiose. Ma in questo caso i caratteri mendeliani sono andati a farsi benedire. L'adorato figlio invece pare stia accumulando solo simboli su simboli. È vero sì che di esperienze ne sta catalogando e anche parecchie, ma una stabilità nella geografia politica pure bisogna trovarla. Dopo diverse stagioni nel partito Alleanza Nazionale, traghetta a forza di inviti provenienti proprio da mamma forzista, nello storico partito di Berlusconi PDL. Non contento dell'andamento e soprattutto perché di ruoli importanti da ricoprire non ce ne sono più, lascia e finisce con tanto di annunci in pompa magna nell'Udc di Casini. Ma anche qui troppi veterani della politica non gli consentono di fare come pensava. E allora in provincia proda nel gruppo misto, in attesa del nuovo clamoroso proclama Carlo Perrella, torna nella casa del padre, ovvero in quello che è oggi lo strascico della vecchia N, fratelli d'Italia. Anche perché, diciamolo pure, in provincia la carica di capogruppo, oggi con fratelli d'Italia, non gliela toglie nessuno. E allora forse questa sarà la volta buona per Perrella. Durerà l'idiglio con fratelli d'Italia? E ci spostiamo ora a Isernia. Privatizzare la sanità significa rendere precaria una società. È il timore del sostenitore del Comitato Bene Comune Veneziale Lucio Pastore alla luce del piano operativo sanitario del commissario Frattura. Sentiamolo. Il Comitato Bene Comune Veneziale si associa al Comitato Pro Cardarelli, al Comitato Pro Santimoteo, Pro Vietri, Pro Santissimo Rosario e Pro Caracciolo nel denunciare questo progressivo smantellamento del servizio sanitario pubblico come previsto dal piano Frattura. Si approfitta della crisi determinata dal mancato rientro perché noi ci troviamo di fronte a una classe politica indecente che da più di sette anni ci lascia in questa situazione di piano di rientro con i soldi che i cittadini devono cacciare per mantenere questo degrado e si arriva, si approfitta di questa situazione non per migliorare il sistema e far sì che funzioni ma per spostare il flusso dei soldi del sistema sanitario regionale dal pubblico al privato. Dottore, il Comitato Bene Comune Veneziale si associa anche a tutte le iniziative di lotta atte a far modificare questi piani operativi e la progressiva privatizzazione della sanità. Questo è il nostro punto fondamentale. Qua siamo tutti d'accordo, tutti i comitati, che la privatizzazione è il danno principale. Noi siamo convinti che il sistema pubblico vada riformato, va spostato di più sul territorio il flusso dei soldi ma non significa che il territorio poi deve essere affidato a strutture terze per avere una privatizzazione e quindi una precarizzazione anche del lavoro delle persone che operano in sanità perché questo sta avvenendo. Cioè nella privatizzazione esiste un altro dramma che è quella del precariato. Dai dati, perché ancora non sono riuscito a leggere tutto, ma sembrerebbe che l'80% della forza lavoro dell'ASREM sia fatta da personale precario. Quindi significa che questa situazione porta non solo a una destrutturazione del pubblico ma a una tendenza a voler rendere precaria una società e voler fare in modo che la gente perda i propri diritti e possa essere sfruttata, dove i soggetti intermedi terzi guadagneranno ancora di più sul lavoro di chi agisce in sanità. Ricorre oggi il bicentenario dalla Fondazione dell'Arma dei Carabinieri la cerimonia solenne alla Casa Armafrate di Campobasso. Vediamo. Era il 18 luglio del 1814 quando fu fondata l'Arma dei Carabinieri. 200 anni segnati dall'impegno nelle guerre mondiali fino alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Il bicentenario è stato festeggiato oggi in Molise con la suggestiva e solenne cerimonia che si è svolta alla Casa Armafrate di Campobasso, alla presenza delle principali autorità militari e istituzionali. Dal questo repozzo al prefetto di Menna fino al procuratore d'Alterio, dal governatore Frattura fino al presidente della provincia di Campobasso De Matteis e il sindaco Battista. Dopo lo schieramento delle compagnie è stata deposta la corona di alloro in onore dei caduti e letto il messaggio del capo dello Stato Giorgio Napolitano. L'Arma dei Carabinieri, ha ricordato il vertice del Quirinale, costituisce un incrollabile baluardo grazie al determinante contributo nelle aree di crisi, un fondamentale presidio di legalità. La cerimonia è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività dei Carabinieri. Nei primi quattro mesi del 2014 sono stati eseguiti circa 50.000 servizi, fra cui 105 arresti, mentre sono stati quasi 26.000 i servizi preventivi effettuati sul territorio. Sotto il profilo della repressione, anche in quel settore, i risultati sono stati molto soddisfacenti. Abbiamo scoperto gli autori di numerose rapine e oggi ne verrà data testimonianza attraverso anche la premiazione che verrà effettuata ai nostri militari. Ma è soprattutto attraverso questa presenza sul territorio che fa sì di tenere lontani fenomeni criminali molto gravi e molto più preoccupanti che nelle nostre regioni limitrofe segnano degli indici di delitosità molto più preoccupanti e la nostra azione è tesa proprio ad infrenare eventuali infiltrazioni anche della criminalità organizzata e a mantenere il Molise una terra sana, operosa e pulita. A concludere la manifestazione la consegna delle onorificenze per i militari che si sono particolarmente distinti in servizio. E i festeggiamenti per i 200 anni dell'arma dei carabinieri si sono ottenuti anche a Isernia. Vediamo. A Isernia con una semplice e solenne cerimonia dovuta all'attuale contingenza economica autorità civili, religiose e militari hanno festeggiato il bicentenario della fondazione dell'arma dei carabinieri consegnato a chi si è particolarmente distinto nelle attività di servizio importanti riconoscimenti e tracciato un bilancio pressoché positivo. 1.945 sono stati i reati denunciati dal giugno 2013 al giugno 2014, 59 gli arresti, 1.031 le denunce in stato di libertà, circa 1.800 servizi esterni al mese suddivisi tra pattuglie per l'ustrazione e carabiniere di quartiere. Sono stati 224 invece i servizi di ordine pubblico per l'ordinato svolgimento delle manifestazioni pubbliche e aumentato anche il numero di controlli a persone e mezzi, circa 30.000. 9 persone invece sono finite in carcere per spaccio e detenzione di droga, 31 quelle denunciate in stato di libertà, 47 gli assuntori segnalati, 474 i grammi di droga sequestrati. Per quanto riguarda la violenza di genere, 29 sono stati i reati segnalati, 6 stalker sono stati arrestati e 14 quelli denunciati. 150 veicoli sono stati posti sotto sequestro perché privi della copertura assicurativa. Un ottimo lavoro è stato svolto anche dal nucleo antisofisticazione e sanità che ha esercenti vari ha contestato 12 violazioni penali, 34 amministrative per un totale di 200.000 euro di merce a vario titolo sequestrata, mentre il NOE ha effettuato 19 controlli per presunti inquinamenti del suolo, deferito 5 persone, applicato 9 sanzioni penali e 3 sequestri di terreno, due negli ultimi giorni a Venafrio e Sesto Campano per un valore di 670.000 euro. Per quanto riguarda infine il lavoro nero, i carabinieri hanno effettuato nei cantiere più in generale, nei luoghi di lavoro, 166 controlli, denunciato 81 persone, accertato 109 violazioni penali, 104 quelle amministrative, sequestrato 23 attività e individuato 54 lavoratori a nero. Ed ora la cronaca, sfiorata la tragedia a Belmonte del Sagno, durante un'escursione in montagna, una donna di 56 anni è stata colpita da un malore provvidenziale, l'intervento del soccorso alpino. Vediamo. Avrebbe potuto tramutarsi in tragedia l'escursione in montagna di un gruppo di alpinisti del CAI, impegnati in un trekking a Belmonte del Sagno, in località Rocca Labate. Una donna di 56 anni stava percorrendo un sentiero in salita, quando è stata colpita da un malore improvviso, accasciandosi a terra. Immediatamente gli altri escursionisti hanno allertato i sanitari del 118 e i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Sul posto sono giunti anche alcuni agenti del Corpo Forestale dello Stato di Agnone e i carabinieri della stazione di Capracotta. Particolarmente impervio, l'ambiente circostante, situato a notevole distanza da qualsiasi punto raggiungibile mediante la viabilità ordinaria, il che ha reso necessario l'impiego di un elicottero della Polizia di Stato in arrivo da Pescara, grazie a protocolli di intesa stipulati a livello nazionale con il soccorso alpino. La donna, con presunto arresto cardiocircolatorio, è stata prima trasportata in Barella all'ospedale di Agnone. Una volta stabilizzato il quadro clinico, è stata poi trasferita al Santimotio di Termoli nel reparto di terapia intensiva. Solo grazie alla tempestività dei soccorsi è stato dunque possibile salvare la vita dell'escursionista, le cui condizioni di salute sembrano in via di miglioramento, ma sotto il monitoraggio costante dei sanitari del Santimoteo. Da oggi al via lo sciopero proclamato da CGL e Will Poste che hanno chiesto più tutele per i lavoratori precari e per i cittadini. Meno precariato tra i lavoratori e servizi migliori perché non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Con questo grido di battaglia CGL e Will Poste hanno annunciato lo sciopero che interesserà le prestazioni straordinarie dei dipendenti fino al prossimo 8 luglio. Le motivazioni sono state spiegate stamattina in un'apposita conferenza stampa che si è svolta nella sede della Will. Questo sciopero dalle prestazioni aggiuntive è straordinaria e riguarda i servizi postali. Quindi per essere più chiari ai cittadini il recapito, il portalettere, parte da oggi fino all'8 luglio e il motivo è per una carenza di personale. Noi abbiamo tutta la parte del Basso Molise in forte carenza di personale, soprattutto a causa degli infortuni, perché i lavoratori lavorano sotto stress. C'è anche il problema del precariato che riguarda una parte dei lavoratori. Se noi pensiamo che questa azienda a livello nazionale è un'azienda che fa utili a diversi zeri, avere questa forma di precariato è uno scandalo. Ma nuovi problemi sono all'orizzonte perché l'azienda potrebbe decidere di ridurre ulteriormente gli organici. Io voglio lanciare un appello che anche la CISL possa rivedere la sua politica e venire insieme a noi per dire all'azienda basta questo sfregio continuo che si perpetra nel Molise. In termini di sicurezza sul lavoro rispetto dell'ambiente garanzie dei lavoratori si è distinta un'azienda di termoli che opera nel settore chimico. Il plauso per i risultati conseguiti giunge dal presidente di Assi Industria Molise, Mauro Natale. Lo stesso ha ribadito la necessità di fuoriuscire dalle aziende regionali partecipate. Ma occorre, ha precisato Natale, avere il coraggio e la determinazione di abbandonare una volta per tutte la logica politica assistenzialistica che ha creato oggi tantissimi disoccupati e debiti ingenti per le casse regionali. Si avrebbe così la possibilità di riscrivere lo sviluppo del nostro Molise in una prospettiva europea. Si è tenuto questa mattina l'incontro ufficiale tra il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Niro e la delegazione di molisani residenti a Sidene in Australia. Alla base del loro viaggio, la volontà di rafforzare i legami tra le due comunità. Vediamo. Un viaggio alla scoperta del Molise, della sua storia, dei suoi paesaggi. Quello che ha visto protagonista la delegazione australiana guidata dal presidente della Federazione dei Molisani nel mondo di Sidenei, Michele Di Re. Questa mattina l'incontro con il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Niro. Forte il senso di appartenenza alla propria terra d'origine, mostrato dai membri della delegazione, altrettanto forte il desiderio di promuoverla e valorizzarla all'estero. Sfortunatamente il Molise non è abbastanza riconosciuto dalla maggioranza dei molisani che vivono in Australia. Io veramente sono emigrato in Australia quando avevo 11 anni e ho dovuto cercare da me stesso di leggere dei libri per imparare il Molise. Ci sono state delle persone che mi hanno detto che non credevo che il Molise era così. Mi auguro che questa nostra esperienza serve anche a promuovere il turismo in Australia perché sono sicuro che quando la gente ritornerà in Australia porteranno questo messaggio. Un percorso di approfondimento storico e culturale finalizzato a rafforzare legami tra le due comunità. Un'occasione preziosa per consolidare i rapporti con i molisani nel mondo. L'esperienza in Molise è stata molto perché sono rimasto molto contento di vedere i nostri compositani molisani e noi con la nostra delegazione australiana, come ha detto il presidente, siamo rimasti contentissimi di questo. Ecco, se dovesse dare un consiglio su come valorizzare la nostra terra, cosa direbbe? Come sono imprenditore di un venicolo in Australia vorrei scambiare della cultura, dei scambi importanti che dall'Italia, dal Molise, vengono da noi in Australia. E i nostri nipoti, i nostri figli potrebbero venire al Molise di fare questi scambi. Quello è molto importante. E torniamo a parlare ora della trasmissione ai talent. Dopo l'ottimo risultato in termini di ascolti, Molise TV ha deciso di continuare ad investire sui talenti giunti in finale, riproponendo il tour estivo. Si apre dunque un nuovo capitolo per i ragazzi. Vediamo. Musica, danza, recitazione, canto e tanto divertimento. Gli ingredienti di E-Talent, il programma di Molise TV che in questa seconda edizione ha visto la partecipazione di oltre 150 concorrenti provenienti da tutto il Molise. La finalissima dello scorso 3 giugno è andata in onda sabato 7 e ha visto la vittoria della quattordicenne di Isernia Alessia Notaro. Musica, danza, recitazione, canto e tanto divertimento. Secondo posto a pari merito per Roberta D'Adamo di Guglionesi. Musica, babushka, 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 ya, ya. Oh, io, babushka, 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 ya, ya. E Denise Rossetti di Campobasso. Allora ti direi, stavolta sarebbe per sempre, non importerebbe niente e se le parole tue mi hanno fatto male. Medaglia di bronzo per Eliano De Luca di Montecilfone. Ora posso amare, ora, ora posso correre e giocare. Ora volo sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità. Un altro traguardo per l'emittente è il suo editore Federico Mandato che ci ha tenuto a ringraziare tutti i finalisti. E' stata una sorpresa nella sorpresa, perché devo dire che non è aumentato soltanto il numero di concorrenti, ma è aumentata anche la qualità. Però come ho detto l'anno scorso, il traguardo voi l'avete compiuto, come noi, come Molise TV, mia figlia piange e quindi viene qua. E quindi ci date davvero la forza di andare avanti, perché è sempre più difficile, lo devo dire, organizzare questi programmi completamente gratuiti, però ci vorrebbe un sostegno maggiore da parte di tutti, perché il primo grande premio, secondo me, per tutti coloro che sono arrivati in finale, ma non solo per quelli, e di aumentare l'entusiasmo girando per i paesi, quindi di farvi fare un tour, proprio per farvi completare il quadro come dei veri professionisti. Dunque per tutti gli amici di iTalent, le sorprese non finiscono qui. L'editore, tenendo fede alla propria logica e missione di valorizzazione dei talenti locali, ha deciso di riproporre il tour estivo in giro per le piazze molisane. Apriamo ora la pagina sportiva. L'Assemblea dei Soci approverà a giorni la designazione di Antonio Melloni alla presidenza dell'Olimpia agnonese. Intanto sul fronte mercato spunta il nome dell'attaccante Roberto Aquaro, pronto al ritorno in maglia Granata. Intanto il campo basso calcio si prepara al Memorial Scorrano. Vediamo. Sarà ufficializzata nei prossimi giorni la nomina di Antonio Melloni alla presidenza dell'Olimpia agnonese dall'Assemblea dei 31 soci, ma sembra che non ci siano ostacoli di sorta. Solo dopo questo passaggio la società inizierà a muoversi sul mercato. Si cercano in particolare due attaccanti che possano garantire un buon numero di gol e un centrocampista dai piedi buoni. Inoltre dovrebbe arrivare la conferma di Corrado Urbano e del suo staff. Anche qui tutto dovrebbe essere una pura formalità, così come la caccia all'attaccante Roberto Aquaro che ad Agnone ha lasciato ottimi ricordi e per il quale ci sarebbero da limare solo alcuni dettagli dopo l'accordo di massima tra la società e il giocatore. In casa Campobasso, l'associazione Noi Siamo il Campobasso continua a lavorare con l'obiettivo di arrivare a raccogliere 50.000 euro per iscrivere la squadra al campionato, ma il traguardo più immediato è il Memorial Scorrano che si giocherà domenica prossima 15 giugno sul sintetico di Mirabello Sannitico. Le chiavi della macchina organizzativa sono in mano a Raffaele Dilisio, l'amico di sempre del capitano storico russo-blu. Alla manifestazione parteciperanno molti giocatori che militarono nella stagione in B dell'83-84, quando i Lupi sfiorarono addirittura la promozione in Serie A. Scenderanno in campo campioni del calibro di Ciappi, Pivotto, Maestri Pieri, Prugna, Parpiglia, Biagetti, Maraiulo, Dottavio, Tacchi, Donatelli, Ugo Lotti e Dilena. Tutti felici di esibirsi sotto gli occhi di Scorrano che dal cielo guida ancora i suoi con il coltello tra i denti su tutti i campi d'Italia. E cambiamo argomento, il ruandese Silvan Rukundo ha vinto la 14esima edizione del trofeo San Nicandro con il tempo di 26 minuti e 55 secondi che si è corso a Venafro sulla distanza dei 9 chilometri in cui hanno partecipato circa 300 atleti. Rukundo ha preceduto l'altro africano Chumba Kipsang e il campobassano Ivan Di Mario nella categoria femminile. Infine ha vinto la marocchina Suomia Labani davanti ad Ana Nanu e Virginia Petrei. Si sono svolte al palazzetto dello sport di Via Svevo a Campobasso le finali provinciali del campionato di freccette individuali a squadre. Il team Freccette Tricolore Battaglione Petrellese di Petrella Tifernina ha conquistato il titolo di campione nella Serie Master. Vediamo. Le Freccette Tricolore Battaglione Petrellese di Petrella Tifernina hanno conquistato il titolo di campione Serie Master Campionato Provinciale 2014 organizzato dalla FIDART Campobasso. La squadra è composta da Capitan Giuseppe Cannavina, Davide D'Abramo, Marco Di Lallo, Angelo Gasbarrino, Giacomo Di Lallo e Michael Garofalo che ha solo i due anni di attività alle spalle ha preceduto i The King of Relax di Campo di Pietra e gli Street Boys di Campobasso. Nelle altre categorie Luca Zappone di Telometto nel Bull ha vinto il titolo di campione della Serie D davanti a Nicola Testa e Mimmo Di Biase. In Serie C il campione Marco Di Lallo delle Freccette Tricolore Battaglione Petrellese che ha conquistato anche il diritto a disputare gli europei a Porez in Croazia dal prossimo 13 giugno e ha preceduto Teo Gambetta e il compagno di team Davide D'Abramo. In Serie B ha conquistato il titolo di campione Ettore Benvenuto davanti a Michael Garofalo e Valeriano Lauda. Invece per la categoria Amatori il successo a squadre va all'A-Team Campobasso che si impone su Bukowski e Street Termoli. Infine per la Serie Mixed che prevede la presenza di almeno una donna in squadra si è imposto il team di Telometto nel Bull davanti ai dart all'alcol di Oratino e ai funky dart di Campobasso e alla fine dopo due giorni di gare entusiasmanti e confronto leale al palazzetto di Via Sveva a Campobasso è festa per tutti. E questo era il nostro ultimo servizio vi lascio alle previsioni del tempo grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso Previsioni del tempo per martedì 10 giugno l'alta pressione sempre presente sulle regioni sudorientali favorirà una discreta instabilità diurna sui rilievi appenninici venti moderati tra nord-est e nord-ovest mari quasi calmi o poco mossi temperatura è stabile in ulteriore lieve aumento vediamole nel dettaglio Campobasso minima 18 massima 28 gradi Isernia minima 15 massima 27 gradi Termoli minima 20 massima 24 gradi Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso e l'ho a a a m